Da lunedì prossimo fino a venerdì 14 giugno si possono trasmettere le domande all'assessorato allo sport per tutti della Regione Puglia per il finanziamento di progetti, attività e centri estivi sportivi che promuovano la pratica motoria e sportiva nel corso del 2024. A essere finanziate sono le attività sportive per bambini, donne, anziani, disabili, persone con patologie croniche e chi è in difficoltà socio-economica. Non saranno finanziate attività didattiche, corsi di formazione, promozioni, attività ludiche, culturali e sociali. Con un budget complessivo di 1.350.000 euro l'avviso prevede la concessione di contributi da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 10.000 secondo le valutazioni di una commissione che attribuirà punteggi con i criteri dettagliatamente riportati nell'avviso. I progetti e i centri sportivi estivi devono essere svolti nell'anno 2024 e conclude si entrano non oltre il 31 maggio del 2025. Devono avere una durata di minimo 15 giorni di svolgimento dell'attività fisico-motoria sportiva attestati da un registro presenze dei partecipanti.